Non hanno bisogno di presentazioni. Eccentrici, devo dire. E allora? Allora, visto che siamo, chi siamo? Meno chiacchiere e più azione. Andala! Con i mitici Bud Spencer e Terence Hill, riderete dal primo all'ultimo pugno. Addio! Per il ciclo, botti da ridere. Su Rete 4, nati con la camicia, sabato 21.25.